Tra gli effetti dell'esposizione solare prolungata abbiamo il fotoinvecchiamento cutaneo. Esso si manifesta attraverso una succhezza cutanea, attraverso la produzione di rughe molto profonde, la perdita della siccità cutanea, delle irregolari iperpigmentazioni e le teleangectasie, ovvero dilatazione dei vasi sanguigni. Tutto questo compare sulle parti esposte al sole, ovvero il viso, il collo, il décolleté, gli arti superiori. I raggi UVB sono responsabili degli eritemi, i raggi UVA invece penetrano più in profondità nel derma, determinando quindi il fotoinvecchiamento, ed inoltre questo è dovuto anche all'accumulo dei radicali liberi che vengono prodotti per l'esposizione solare. Allora è importante utilizzare una buona protezione solare per evitare i danni del sole, ma soprattutto abbinarla all'uso degli antiossidanti, in quanto questi vanno a neutralizzare la produzione dei radicali liberi. Un naturale antiossidante molto noto sia per via orale che per uso topico è la vitamina E. Adesso possiamo aggiungere la vitamina C, sempre per uso topico oppure orale, oppure nei prodotti per uso topico troviamo altri antiossidanti come l'acido ferulico e il resveratrolo. Quindi il binomio protezione solare SPF elevata e l'utilizzazione per esempio di sieri con prodotti antiossidanti risulterà vincente nella prevenzione dei danni dal fotoinvecchiamento cutaneo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!